L'obiettivo della lezione di oggi è quello di vedere assieme come funzionano l'insieme di librerie R che vanno sotto il nome generico di Tidyverse. Tidyverse non è di per sé una libreria ma è una collezione di librerie che hanno un modo di operare comune e che sono in grado di lavorare assieme perché operano su dei dati che sono fatti in maniera simile quindi condividono una filosofia di lavoro tutto sommato unica. Per utilizzare Tidyverse quello che possiamo fare è, inizio già subito con un notebook che ho creato, scrivere la chiamata library e poi Tidyverse. Ingrandisco un po' così leggiamo meglio. Se eseguo questa chiamata vedete che qui sotto mi dice che ci sono una serie di package che sono stati attached, quindi caricati. ggplot, tibble, tidier, reader, parer, plier, stringer e forecast. Questi sono gli otto principali package che sono all'interno del Tidyverse. Quando voi installate Tidyverse, quindi se non l'avete già fatto, tools, install packages e poi qui Tidyverse, oltre a questi package che vengono caricati automaticamente ce ne sono un certo altro numero che poi possono essere caricati su richiesta, quindi andando a scrivere esplicitamente library. A cosa servono queste librerie? Sostanzialmente servono a svolgere quella operazione che si chiama di wrangling, che prevede sostanzialmente di caricare i dati dovunque siano, di diciamo fatemelo scrivere così, riassettare i dati mi passate la traduzione non proprio letterale di Tidy e infine di andare a trasformare, manipolare, aggiustare i dati in modo che siano poi utili per poter essere letti, visualizzati, analizzati. Quindi questi sono sostanzialmente i passi. Vi attivo la preview di qua così lo vediamo per bene. Quindi questi sono i passi che dobbiamo fare. Per fare questo, oltre alle lezioni che vi ho caricato, che se non avete già visto potete vedere con calma successivamente, perché oggi riprendo comunque tutti i concetti fondamentali, andremo a lavorare su un esempio concreto. L'esempio concreto è quello che abbiamo già visto qualche lezione fa parlando di dati ed è questo del Istituto Superiore di Sanità. Andiamo a prendere i dati questi del contagio Covid-19. Ora, quello che facciamo è, se voi fate un clic su questo link, clic destro, potete fare copy link e andando qui andare a mettere, diciamo, l'url è uguale a questo link che ho copiato qua. Poi, la volta scorsa avevamo scaricato a mano il tutto. In realtà, il modo più semplice di farlo è download file. Certo, lo metto subito in chat. Quindi copiate quello e lo mettete nel vostro file, come ho fatto io. A questo punto, se fate un download file e mettete url, virgola, il nome del file in cui andare a salvare è questo contenuto, che potrebbe essere covid19.xlsx. Attenzione all'estensione perché così poi potete anche aprirlo in locale. Sostanzialmente download file, prende quel file e lo scarica in locale. se volete, possiamo anche fare file uguale a questo file e per evitare di scaricarlo più volte possiamo fare if file.exists anzi, se if not file exists il file allora lo andiamo a scaricare. Ovviamente questo non tiene conto degli aggiornamenti ma qui se vogliamo caricare il nuovo file basta cancellare quello che già esiste e scaricarlo. a questo punto se io eseguo questo questo codice se non ho fatto errori vedete che mi si collega qua content type e mi ha scaricato sostanzialmente 79k di file. Se vado nel files qui mi ritrovo un covid-19 che è stato scaricato. Ok? Io ora questo download ve l'ho messo direttamente nel notebook. Ragionevolmente o usate un file exist oppure lo mettete in uno script separato perché se il file non cambia ragionevolmente non è che ogni volta che io eseguo il mio il mio documento hammerdown scarico un nuovo file che potrebbe essere complicato. Questo file è abbastanza piccolo ma in generale questo potrebbe non essere il caso. Quindi a questo punto se salvo mi dice sostanzialmente che ha scaricato il file a questo punto diciamo che questo non fa parte del TAI diverse sono caratteristiche base di R ma comunque i file da qualche parte dobbiamo metterceli dobbiamo andare a prendere. Quindi andiamo a creare un nuovo chunk in cui finalmente andiamo a leggere i file all'interno delle delle librerie base di R ci sono dei file per leggere sono usate le funzioni per leggere dei file tipo CSV non ci sono file non ci sono funzioni per leggere file di tipo Excel per cui quello che possiamo fare è aggiungere scaricare una libreria che si chiama read xl se avete installato TAI diverse dovrebbe essere inclusa se no la scaricate voi cioè installate read xl ha un metodo che si chiama diciamo covid freccia read underscore x l s x e poi richiede il nome del file che è il file che abbiamo dato prima e visto che all'interno di un file Excel spesso esistono tanti diversi fogli dobbiamo andare a selezionare il foglio da aprire quindi lo possiamo fare è aprire il foglio con Excel che ve lo porto di qua abbiamo varie cartelle andiamo a prendere non so l'ultimo ok lo stato clinico che forse è quello un po' più interessante quindi andiamo a caricare il file che si chiama stato clinico invece del nome del foglio all'interno del workbook noi possiamo anche andare a mettere il numero ok 0 1 2 e quindi se non conosciamo i contenuti possiamo aprirli uno per volta finché troviamo il contenuto giusto in realtà aprendoli direttamente con Excel vediamo dove dove ci sono i dati e poi possiamo tanto per verificare di aver letto i dati correttamente andare a stampare il risultato scusate ho scritto library non library ok ecco qui abbiamo il risultato della nostra lettura i dati sono quelli che sono all'interno di quel foglio vedete che abbiamo cinque colonne la data di pubblicazione dei dati sesso age group stato clinico e casi ok normalmente quando carichiamo i dati read xlsx ma anche esiste una funzione che è quella che è presente nei lucidi che vi ho raccontato che si chiama read underscore csv cercano di andare a indovinare il tipo di dato allora evaluation error with zip file allora riuscite ad aprire il file excel con excel aspettate che tolgo allora quindi con excel si apre ok Allora, vediamo un attimo quale potrebbe essere la causa. Allora, quando l'avete aperto, il download vi dà questo messaggio, application, eccetera, ok. E la lunghezza del file dovrebbe essere quella che vedo anch'io, cioè 81,759 byte. Ok, attenzione all'estensione. Una volta che avete selezionato il file, se fate un view file, a qualcuno funziona, a qualcun altro no. Allora, a chi funziona vuol dire che il file è stato caricato correttamente, ok? Quindi direi che almeno il primo passo c'è. A chi non funziona vuol dire che probabilmente il download non è andato a buon fine. Allora, per risolvere il problema del download, quello che possiamo fare è o lo scaricate direttamente con un click testo e download, oppure scaricandolo manualmente. Vi metto il file anche direttamente qua in chat, così al limite lo potete scaricare di qua senza dover andare sulla pagina. Quindi hai risolto, scaricando il file, riesci anche a leggerlo. Ah, ok, so a lettura. Questo è strano. Scaricando il file direttamente gli altri sono riusciti a risolvere il problema. Ok, scaricando manualmente sembra che funziona. Allora, può darsi che ci sia un qualche bacco sul download file, perché evidentemente se scaricandolo manualmente funziona. Ok. Perfetto. Allora, Fabio, ancora un problema col file della chat. Allora, abbiamo scoperto che il download file probabilmente non funziona correttamente. O meglio, non funziona correttamente dappertutto. Allora, Fabio, ancora un problema, anche scaricandolo dalla chat, che forse è quello più tranquillo. Perfetto. Cloud. No, abbiamo guラtamente. Perfetto. E vediamo prima. ok non vedo altri allora allora l'errore aspetta che è quello di prima che mi inscrivevi l'errore allora dipende dove ti dà l'errore sul allora sì l'errore notebook va salvato perché altrimenti l'errore non sa dove cercare il file normalmente lo cerca nella stessa cartella in cui si trova il notebook questo potrebbe essere una causa avete ancora il problema dove ve l'ho salvato dopo averlo scaricato dalla chat perfetto quindi direi che probabilmente era allora quello è probabilmente il problema principale quando cerchiamo di aprire un file esterno ovviamente R lo fa rispetto alla cartella di lavoro se il file non è stato salvato non sa bene qual è la cartella di lavoro ok ok diciamo che lo possiamo considerare come risolto spero va bene c'è un modo di fare commenti multipli ah che comprendono più righe allora no cioè l'unico modo è quello di andare a mettere il carattere di hash all'inizio di tutte le righe non esiste il backslash asterisco e asterisco slash come in C ad esempio l'ideale si inizia tutte le righe di commento con lo stesso carattere quelle sono tutte le righe di commento ok allora immagino che abbiate più o meno risolto tutti allora osservazione prima osservazione dopo aver caricato il file vedete che il nostro file la nostra funzione di lettura ha cercato di indovinare i valori e ce li ha messi tutti come carattere ok carattere è quello che funziona sempre nel senso che prendo i caratteri che leggo e li riporto in realtà non è proprio così perché ad esempio SS date è una data sesso ed age group potrebbero diventare dei fattori lo stato clinico è sicuramente un carattere ma potrebbe anche essere un fattore i casi dovrebbero essere un numero il problema dei casi è che come vedete qua c'è un minore di 5 quindi quando la nostra funzione cerca di leggere i dati quello che scopre è che lì in realtà in quella collonna non ci sono soltanto dei numeri ma ci sono anche dei caratteri che non sono numerici quindi lo salva lo utilizza come carattere ok in modo da tenere tutti i dati quello che possiamo fare è qui andando andare a dire call types uguale call e qui andare a specificare i vari elementi ok ok guardate non call ma calls e qui posso andare a mettere ad esempio sesso uguale call factor quindi se faccio questa lettura e qui e qui no non me lo prende non so come mai scusate che allora no il formato è leggermente diverso quindi call types uguale il primo non possiamo farlo come date perché text perché il formato non è un formato standard il secondo allora fatemelo rileggere così abbiamo il riferimento lì ok allora il primo il primo lo manteniamo testo perché il formato giorno mese anno non è il formato standard che può essere riconosciuto poi vi faccio vedere direttamente che se metto date qui non non lo riconosce il secondo deve essere un factor se me lo riconosce text e integer allora vediamo se funziona in questo caso no ah non mi riconosce il factor perché in excel e neanche integer quindi number ok ho trovato un sacco di errori ecco tutti gli errori che abbiamo visto sono dati dal fatto che qui ad esempio ssdate non me l'ha riconosciuto e il fatto che ad esempio qua dove c'era minore di 5 mi ha dovuto mettere un na ok quindi questa conversione funziona fino a un certo punto quindi il primo potrebbe essere convertire e farlo in text ma abbiamo un sacco di warning e la data mantenerla come carattere e poi convertirla dopo se vogliamo avere tutti questi evitare tutti questi warning possiamo semplicemente leggerlo e convertirlo poi dopo ok allora cosa si intende per riassettare i dati i dati si considerano in formato tidy pulito se per ogni riga ho una osservazione e per ogni colonna ho una variabile e soprattutto le osservazioni non sono sparse su più righe qui un'osservazione potrebbe ora essere il gruppo 0-9 di sesso femminile a questo punto su questo gruppo che variabili possiamo osservare possiamo osservare il numero di persone asintomatiche critiche lievi paroci sintomatiche e severe quindi questi 1 2 3 4 e 5 livelli di fatto sono delle variabili quindi l'osservazione che si riferisce a quel gruppo di età e di quel particolare sesso sono non su un'unica riga ma sono sparse su più righe invece di essere messe sulle colonne per risolvere questo problema io devo sostanzialmente prendere questo dataset e allargarlo sostanzialmente andare a prendere quelle cinque righe fonderle assieme quindi mantenere le variabili comuni che sono date sesso age group andare a creare nuove colonne una per ciascuno di quei cinque possibili stati clinici e in quelle colonne andare a mettere il numero che c'è di fianco ovvero il numero di casi questo tipo di operazione lo possiamo fare con una funzione che si chiama pivot wider esiste anche pivot longer che sostanzialmente non fa altro che prendere più colonne e andare a creare delle righe diverse ok è l'operazione inversa ora vi faccio vedere come pivot wider lo trasforma e poi vi faccio vedere che pivot longer fa l'operazione inversa quindi utilizzeremo uno o l'altro a seconda di come ci troviamo i dati quindi pivot wider prende come parametri tutte le funzioni che andiamo a vedere hanno come primo parametro il dataset quindi il nostro covid dopodiché andiamo a dire da dove andiamo a prendere i nomi delle nuove colonne quindi i nomi delle nuove colonne arrivano da questa colonna qua che si chiama stato clinico quindi i possibili valori di questa colonna diventeranno nomi delle nuove colonne quindi names from e qui vado a indicare stato clinico e ovviamente creata la colonna in quella colonna dovrò andare a mettere dei valori i valori da dove arrivano arrivano dalla colonna che è casi quindi values from uguale casi eseguo l'istruzione così e poi invece di memorizzare e dopo lo memorizziamo nella variabile ok riduco di qua così lo vediamo tutto sostanzialmente eccoci qua siamo passati in una situazione come questa in cui abbiamo tutto sparso su più righe a questa situazione in cui abbiamo tutte le colonne che hanno i valori tanto per verificare andiamo a vedere che ad esempio in questo caso avevamo severo che corrisponde a 79 e qui abbiamo severo che corrisponde a 79 per il gruppo di età f da 0 a 9 la funzione pivot wider si trova dentro il package tidier che è importato con questo library tidier quindi bisogna mettere bisogna prima eseguire library tidier in modo che venga importata la libreria e poi dovrebbe essere visibile la funzione ok questa istruzione qua di library tidier l'ho eseguita all'inizio e quindi me l'ha importato all'inizio tutto ok a questo punto covid a questo punto diventa quella nuova versione vedete che in questo modo non abbiamo delle righe dove c'è una colonna che ci dice il tipo di dato che c'è sulla riga successiva ok questo è un modo strambo di andare ad avere i dati ok può essere utile avere i dati in quel modo se ho un particolare obiettivo ma in generale il dato di partenza il data set di partenza dovrebbe essere ordinato una variabile per ogni colonna ok a questo punto tanto per farvi vedere l'operazione inversa è quella che si chiama pivot longer che a questo punto prende il covid modificato in questo modo quindi rieseguo questo e a questo punto covid virgola qui vado a prendere le colonne che sono tutte quelle che abbiamo sparpagliato quindi asintomatico virgola critico virgola lieve paucisintomatico virgola severo e poi vado a dire names to vado a dire dove mettere i nomi di quelle colonne ok se vogliamo rigenerare una cosa analoga a quella di prima diventa lo stato clinico lo metto tutto minuscolo così lo distinguiamo da quello di partenza ok e i valori che sono presenti in queste colonne vanno a finire tutti in una nuova colonna che si chiama conteggio chiamiamolo numero paucisintomatico forse ho usato il carattere allora a puaci grazie paucisintomatico ok vedete in questo caso mi riporta alla situazione che c'era prima con i nomi cambiati perché li ho dati diversi ma sostanzialmente fanno le due operazioni uno allarga il dataset e l'altro lo allunga andando a tenere fisse una serie di informazioni che sono sostanzialmente queste prime tre quindi tramite queste due funzioni noi riusciamo sostanzialmente a fare un po' di operazioni di sistemazione della struttura del nostro dataset allora non sempre è necessario ok a volte ci troviamo già un dataset nel formato che è insomma più pulito e quindi non dobbiamo fare nulla a questo punto il passaggio successivo è quello che richiede di andare a fare delle operazioni di trasformazione aggiustamento ok abbiamo detto che ad esempio ISS date non va bene abbiamo detto che se esso potrebbe essere un fattore come pure age group il numero non dovrebbe essere un carattere il numero ma in realtà tutti questi non dovrebbero essere dei caratteri ma dovrebbero essere dei valori numerici eccetera ok quindi quello che posso fare è andare a trasformare la mia struttura dati in modo che i valori delle colonne siano facilmente trattabili per cui ad esempio se ho bisogno delle date nel loro formato corretto è bene che siano rappresentate come delle date perché così ad esempio posso fare degli ordinamenti quindi ci sono tanti aspetti che posso trattare meglio se il dato è memorizzato nel modo corretto per fare questo di solito è comodo utilizzare una serie di quelli che vengono chiamati dei verbi di trasformazione dei dati e questi verbi possono essere facilmente combinati tramite un operatore che si chiama operatore di pipe l'operatore di pipe è quello che si indica con percento maggiore percento allora da un errore sul passaggio di prima asintomatico non esiste allora quello che potete fare è una volta che allora attenzione un passaggio che io ho fatto è di fare covid freccia pivot wide ok quindi ho trasformato la versione iniziale in una versione larga dopo che ho fatto questo ho applicato ok ho applicato il pivot longer altrimenti se non faccio questa operazione qui ok perfetto altrimenti se non faccio questa operazione qui l'operazione di pivot longer si applica su questo dataset quello di partenza che abbiamo direttamente letto dove effettivamente non c'è asintomatico e nulla perché sono valori di questa colonna ok allora l'operatore di pipe mi consente di andare a concatenare tutta una serie di operazioni una dopo l'altra che permettono di trasformare ed aggregare i dati come funziona l'operatore allora iniziamo a vedere come possiamo scrivere un'operazione che prende ad esempio il sesso e lo fa diventare un fattore c'è una funzione che si chiama transform ok o meglio ancora mutate che prende il mio dataset quindi quello che abbiamo chiamato covid e primo parametro e poi abbiamo tanti parametri ciascuno che può andare a definire una trasformazione per cui possiamo fare mutate sesso uguale factor sesso e questo ci prende un array la colonna sesso è di fatto un vettore e ce lo trasforma da vettore di carattere ce lo trasforma in un vettore di fattori con i due livelli il risultato di questa operazione di mutate è un altro data frame quindi se io eseguo semplicemente questa riga il risultato vedete che è un altro data frame in cui la la colonna sesso è diventato un fattore lo vedete subito sotto che è indicato dal fctr che è la contrazione di factor per cui quello che faccio è andare a mettere il risultato in un'altra variabile in modo che ho elaborato quello lo metto sovrascrivo magari il valore precedente e avanti di questo passo l'operatore di pipe mi consente di andare a scrivere in maniera simile ma tutto sommato forse più leggibile l'operazione scrivendo covid pipe ctrl shift m o command shift m mi di genera automaticamente la pipe e poi la funzione mutate sesso uguale factor di sesso se io vado ad eseguire questa riga ete che ottengo esattamente la stessa cosa ma in maniera tutto sommato più leggibile nel senso che ho il dataset che viene dato in pasto a questa funzione implicitamente ed è quello che fa l'operatore di pipe dentro questa funzione mutate l'operatore di pipe inserisce il suo operando sinistro in questo caso covid lo mette di nascosto implicitamente come primo parametro e quindi sostanzialmente queste due scritture sono equivalenti scusate il commento è questo il vantaggio di questo è che io posso andare a fare una serie di concatenazioni quindi posso mettere un'altra pipe un altro mutate ad esempio age group uguale factor age group pipe eccetera eccetera e posso anche andare a scrivere le cose una riga per volta piccola parentesi quando andate a spezzare delle espressioni su più righe fate molta attenzione a come lo fate perché abbiamo visto una delle prime lezioni che R considera la capo come fine di una istruzione o di un'espressione ok per cui se voi spezzate la riga ve lo faccio usando l'aritmetica molto semplice se io voglio scrivere 1 più 2 più 3 più 4 ok e voglio eseguire questa riga il risultato è il nostro 10 ok se lo voglio spezzare e lo spezzo dopo un operatore quindi dopo il più quando mi posiziono sulla riga 49 in questo caso e faccio contro l'invio per eseguire quella riga automaticamente non leggendo quella riga arrivando al più r vede che l'espressione non è completa manca un altro pezzo e quindi include anche la riga successiva quindi se io mi metto qui e faccio comando invio ottengo di nuovo 10 se io invece la mia espressione la vado a spezzare la vado a spezzare dopo il 2 ad esempio così e faccio invio command invio sulla riga 49 e il risultato è 3 perché su quella riga lì c'è un'espressione completa e quindi r non va a leggere il proseguimento che ho messo sulla riga dopo e la riga dopo se la eseguo ottengo 7 nel senso che viene interpretato come un pezzo di espressione non è detto che sia sempre corretto quindi l'idea è ricordatevi sempre quando andate a spezzare un'espressione su più righe di spezzarlo di mettere la capo subito dopo un operatore ok il più nel caso dell'esempio precedente l'operatore di pipe in questo caso in modo che l'espressione su quella riga sia evidentemente da completare e quindi r vada a leggere il proseguimento di quella riga in quella successiva e quindi se io mi metto qui all'inizio della riga 51 e faccio command control invio ottengo sostanzialmente di prendere covid di passare la mutate che fa questa conversione in factor e poi quest'altra di age group ok perfetto a questo punto possiamo scorrere il nostro dataset e vediamo che ad esempio abbiamo nell'age group abbiamo anche il livello non noto che potrebbe diventare probabilmente un na ok quindi l'idea della pipe è che io metto il mio dataset qui pipe la prima trasformazione pipe la seconda trasformazione e via di questo passo attenzione qui questo esempio ve l'ho fatto in modo da farvi vedere come possiamo utilizzare la pipe nel caso del mutate se io voglio fare tante operazioni di mutazione le posso anche scrivere oppure le posso scrivere tutte all'interno della stessa funzione mutate quindi covid freccia mutate e poi qui virgola age group uguale factor e quindi questo sostanzialmente di nuovo fa la stessa operazione quindi posso andare a separare le operazioni di conversione una dopo l'altra a questo punto vediamo un attimo come possiamo andare a convertire ad esempio la data il nostro iss date uguale allora abbiamo visto in una delle prime lezioni che posso utilizzare es punto date per andare a convertire una data in un formato data che quindi può essere confrontato correttamente se io faccio es date di iss date virgola quello che ottengo è qualcosa che non ha molto senso vedete 0014 0420 ok non ha niente a che fare con il 14 marzo del 21 aprile del 21 ok questo perché perché es date presuppone di utilizzare il formato standard che è 2021 trattino 04 trattino 14 presuppone che la stringa da convertire abbia quel formato e non è il nostro caso perché nel nostro caso lo vediamo appena qui sopra è 14 barra 04 2021 ovviamente noi possiamo anche andare a dire alla funzione sdate dove sono messi e in che ordine i vari componenti della data questo lo possiamo fare con un format uguale e qui andiamo a indicare come sono disposti i vari pezzi della nostra data quindi %d è il giorno poi slash %m maiuscolo che è il mese m minuscolo sono i minuti slash %y che è l'anno quindi quel formato lì dice che la conversione dovrà assumere che ci sia il giorno seguito da uno slash seguito dal mese seguito da uno slash seguito dall'anno quindi se vado a eseguire la mia trasformazione un'altra volta vedete questa volta il dato la data è corretta quindi 2021 0414 ok quindi un passo avanti a questo punto gli altri possiamo andare a trasformarli anche quelli in valori numerici ok lo possiamo fare qui ok andando a elencare tutti asintomatico critico lieve poi asintomatico e severo ok oppure possiamo farlo prima di questa trasformazione da lungo in largo andando a indicare che la colonna casi del dataset di partenza deve essere convertita in un intero e quindi questo lo possiamo fare quindi vado a riprendere il mio chunk di prima di ripulitura di riorganizzazione e vado a dire sostanzialmente covid freccia covid pipe pipe mutate casi uguale as integer di casi pipe pivot wide la operazione di prima ovviamente devo rieseguire tutti i chunk precedenti perché altrimenti parto da un risultato precedente quindi vado a rieseguire i chunk precedenti e poi faccio questa operazione allora vi faccio passo per passo quindi se rileggo questo e lo stampo ah giusto scusatemi avete ragione voi avendo usato un pipe questo non deve esserci ok covid non è un nome che rieseguo il char precedente e rieseguo questo ok perfetto qui mi dice che ci sono stati sono stati introdotti degli na per quale eccezione perché perché in questo es integer alcuni valori di casi ad esempio il minore di 5 sono stati convertiti in na perché minore di 5 non può essere tradotto in nessun modo ok vogliamo andare allora domanda perché mettiamo l'assegnazione se abbiamo la pipe perché in realtà il risultato questo non viene memorizzato in covid viene semplicemente stampato ok quindi passo covid a mutate il quale lo modifica ma modifica e produce un nuovo risultato lo passo a pivot wider che di nuovo modifica e produce un nuovo risultato quindi tutte queste operazioni non vanno a modificare l'esistente ma sostanzialmente vanno a prendere un dataset in input modificarlo e crearne uno nuovo questo è il motivo per cui qui ho fatto l'assegnazione l'assegnazione tra l'altro essendo questo fare dato freccia dato pipe eccetera è un qualcosa che io faccio molto spesso per cui lo posso anche scrivere come lo riscrivo così faccio copia e incolla che è più facile covid e poi qui vado a mettere minore maggiore in questo caso cosa succede che fa la pipe quindi produce la pipe mi calcola tutto il risultato finale invece di semplicemente stamparlo lo riassegna a covid quindi eseguo un attimo i chunk precedenti nel senso rileggo e poi vi eseguo questo quindi se vado a vedere covid adesso è questo qui il solito di prima l'abbiamo appena eseguito poi eseguo questo e mi da il warning ok perché quel integer mi ha generato dei valori non corretti e poi covid e quindi me lo ritrovo allargato questa volta però prima di fare il pivot wider ho convertito in intero quindi tutti i valori vedete tutte queste colonne qua sono tutte int quindi l'operatore pipe diciamo col maggiore semplicemente dà in input ai passaggi successivi se voglio sostanzialmente andare a modificare il dato perché lo sto insomma non sto facendo un'operazione una tantum che mi serve per fare qualche operazione ma è un'operazione di correzione aggiustamento dei dati quindi posso utilizzare questo altro operatore che è il minore maggiore che oltre a dare in input prende il risultato finale e lo rimette dentro a covid e quindi sovrascrive il valore precedente che è un po' più compatto di scrivere covid freccia covid pipe ok oppure in modo più compatto posso scriverlo così attenzione che praticamente tutte le funzioni non vanno a modificare qualcosa ma semplicemente prendono il dato e generano una versione modificata di quello di partenza quindi il dato di input non viene modificato ma viene prodotto una sua variante modificata e questo vale praticamente per tutto in R tranne select no in realtà tutto tutti i passaggi anche la select sostanzialmente propone in output un data frame che è quello di partenza meno alcuni ma quello di partenza è sempre mantenuto uguale quindi devo ricordarmi di prendere il risultato finale e memorizzarlo oppure non so visualizzarlo fare quello che devo fare però l'idea è che non è detto che il risultato finale vada a finire automaticamente dentro quello di partenza a meno che non usi o questa scrittura qua quindi covid freccia covid pipe oppure il covid doppio pipe chiamiamolo così che modifica infatti tutte le istruzioni che abbiamo fatto ad esempio questo pv longa non modifica covid ma semplicemente stampa la versione allungata di quello ora vi commento questo perché se ci sono tutte e due le istruzioni ovviamente non posso fare due volte la stessa operazione di mutate perché poi è cambiato e lascio questa che se volete quella un pochettino più compatta il pv longa qui lo stampa semplicemente non fa nulla giusto per farvi vedere che è sostanzialmente l'operazione inversa del pv wide questi mutate qui io ve l'ho scritti sostanzialmente giusto per come esempio e quindi vi lascio qui poi vi salvo vi do il file a disposizione quindi questo covid mutate se lo eseguiamo sostanzialmente vedete che ci modifica la data quindi a questo punto è corretta sesso diventa un fattore e ggroup diventa un fattore gli altri sono tutti valori interi dicevamo prima se non voglio avere un risultato che ci dà un warning devo andare a trattare in maniera esplicita il caso minore uguale di 5 se facciamo un as integer come abbiamo fatto adesso quei valori diventano na ovviamente quando faccio un'analisi l'na non lo posso sommare non lo posso visualizzare non ci posso fare nulla ok quindi devo fare un po' più attenzione quando faccio un'analisi un'altra possibilità è quella di andare a dire se il valore che trovo è uguale a quel minore 5 metto che so 1 2 3 4 gli assegno io un valore che insomma in maniera convenzionale tra 0 e 5 che mi dà il valore ok altrimenti prendo il valore di as integer questo lo posso fare con un if else casi uguale uguale guardatevi il doppio uguale minore di 5 se è minore di 5 cosa facciamo mettiamo 3 per dire altrimenti as integer di casi ok quindi rieseguo quello che c'era prima e poi verifico di aver scritto correttamente è che c'era prima che c'era prima che c'era prima scusate l'ifelse mi andava a verificare che il tipo di questo valore fosse usare uguale a questo aveva scoperto che questo era un double cioè un numerico e questo qua un integer e quindi mi dava il problema di prima mi dice comunque che ci sono stati dei casi di coercizione ma sostanzialmente un altro allora se voglio evitare del tutto il warning devo farlo in due passaggi quindi if else casi minore di 3,5 vado a mettere 3 altrimenti metto casi e poi faccio un altro mutate successivo casi uguale a as integer di casi quindi rieseguo cioè rileggo il file e poi vado ad eseguire questa linea in questo caso non ho più il warning perché non chiamo as integer su valori che non sono interi perché? perché ho sostituito tutte le volte che trovavo minore di 5 con 3 ok? oppure volendolo fare in un passaggio solo as integer di if else casi minore di 5 metto 3 altrimenti i casi e il tutto lo faccio in questo modo quindi rieseguo ovviamente il load e rieseguo questa segnazione a questo punto il covid è fatto in questo modo in questo modo ho evitato di fare una conversione da intero a integer scusate la stringa a integer dove ho delle stringhe che non sono interi ovviamente io qui ho messo 3 ma se volete invece di mettere 3 potrei mettere un na in questo caso no scusate rieseguo questo e poi questo qua legna non me lo prende no dovrei fare i due passate non so se così funziona no perché ha bisogno di un ha bisogno di un di un un tipo che sia uguale nei due casi ok allora rieseguo quello precedente eseguo questo eseguo questo e ottengo il risultato allora na compare lo stesso a pagina 2 vediamo un attimo questo perché in 14 4 f allora non noto 23 ah ok giustamente perché qui vedete nel legge group non noto abbiamo soltanto asintomatico paucisintomatico e severo se vado nella pagina prima non ho più gli altri valori quindi per quando l'age group è uguale a non noto non ho critico e non ho lieve quindi quando viene fatto un'operazione di pivot wider quella combinazione tra questo age group e questo stato clinico non c'è il risultato mi viene messo un na ok ovviamente lui cerca tutte le combinazioni tra queste prime tre colonne che sostanzialmente sono quelle fisse e tutti i possibili valori di stato clinico quindi se io torno qui rileggo covid in questo modo se vado a fare unique di covid dollaro stato clinico vedete che ottengo questi cinque livelli quindi automaticamente i valori unici di questa colonna diventano nomi delle colonne se non ho una corrispondenza tra uno di questi livelli e la parte precedente che è fissa il risultato di mettere un NA allora scusate torno un attimo indietro se la riga 44 invece di mettere NA allora lo provo allora non so se diverso da cinque scusate sto facendo una prova al contrario ehm allora compresi gli apici e continuo ad avere l'errore in questo caso ah non mi trova perché me l'ho modificato ehm allora funziona sì ma mi dà il warning ok io cercavo di eliminare il warning precedente non so se es numeric di NA no scusate no diciamo che non allora o prendo il warning oppure metto un valore di di riferimento allora scusate rieseguo ovviamente tutto questo lo commento a questo punto questo me lo esegue e ovviamente mi ritrovo qui il valore 3 dove probabilmente esiste qualche qualche modo di farlo funzionare correttamente ma in questo momento non non ve lo so trovare ok quindi leggiamo facciamo una risistemazione eventualmente con qualche conversione manipoliamo in modo da fare un avere i tipi corretti quindi in questo caso qui vado a mettere la pipe nel doppio senso e poi lo ristampo ok quindi a questo punto se non ho sbagliato qualcosa prima covid è definito qui manca una tonda no qui è giusto così funziona devo capire perché prima funzionava e non funziona adesso insomma se io faccio punto ce l'abbiamo sistemato non so bene perché non me l'abbia fatto in questo caso ma di nuovo cerco di capirlo poi ve lo ve lo racconto la prossima volta quindi trasformazioni molto semplici ok un'altra trasformazione che io posso fare è ad esempio andare a fare un boot hate che invece di andare a modificare una particolare colonna perché tutte le operazioni che abbiamo fatto finora vanno a modificare delle colonne già esistenti posso andare a calcolare delle nuove colonne per cui posso andare a mettere la variabile casi uguale a asintomatico più critico più lieve più severo più au c sintomatico no au c sintomatico lo faccio non ve lo faccio qui perché così evito di andare a rieseguire la stessa mutazione di prima faccio covid covid ah no paucisintomatico ok se metto gli apici me lo me lo prende e quindi mi fa i casi che è sostanzialmente la somma di questi precedenti attenzione che devono essere gli apici inversi perché gli apici singoli non so se funziona allora sono gli apici inversi che sono questi apici che vengono messi qua ok per andare a utilizzare un nome composto perché il trattino altrimenti viene interpretato come un meno quello che possiamo fare è anche andare a fare un'operazione di rename paucisintomatico uguale a paucisintomatico così e poi il tutto adesso ve lo faccio in un passaggio unico rieseguo tutto quello che era precedente e poi ovviamente questo non funziona perché abbiamo cambiato il nome ok alla fine sono riuscito a scriverlo nella maniera corretta ok quindi faccio un mutate andando a cambiare il tipo di alcune colonne faccio un rename da questo qui col trattino a l'underscore ok così è più facile da scrivere e poi vado a fare un altro mutate in cui calcolo una nuova variabile in base a quelle precedenti ok e sostanzialmente con questo siamo arrivati a vedere un po' di trasformazioni a questo punto c'è un'altra funzione importante che è quella di aggregazione che si chiama summarize che permette di mettere assieme i dati quindi aggregare più righe assieme farei una brevissima pausa così poi magari finiamo un po' prima delle 7 giusto 5 minuti e sono 17.40 quasi 17.45 riprendiamo e poi finiamo 15-20 minuti prima delle 7 ok allora prima abbiamo visto che qui invece di scrivere questo io avrei potuto scrivere covid minore maggiore mutate eccetera ma mi dava l'errore di funzione non trovata il motivo allora attenzione ai vostri microfoni il motivo è che questo operatore non è definito nei package che sono automaticamente importati da Tider ma è definito in un package si chiama library magrit che è quello che definisce la pipe di base che viene importata poi negli altri ma non tutti quindi se io faccio un library magrit rieseguo tutto quello che c'è prima in modo da riportarmi nella stessa situazione a questo punto esegue correttamente quella operazione quindi devo esplicitamente importare questa libreria in modo che funzioni questo operatore non chiedetemi perché prima nell'esempio vi ho fatto vedere funzionava perché onestamente non lo so perché qua su vedete qua funzionava e lì sotto non funzionava ma strano ok quindi lo metto qua su in cima così è pronto per essere utilizzato anche dopo ok a questo punto facciamo un minimo di sintesi di dati e la sintesi di dati viene fatta così con l'operazione di sommarizzazione che viene fatta tramite la funzione che si chiama summarize quindi prendo covid il mio dataset e faccio summarize esiste in due varianti con la s quindi con la scrittura british e con la z in scrittura americana summarize riceve ovviamente come primo parametro che però è implicito avendo usato la pipe il dato e successivamente una serie di espressioni della forma variabile uguale che mi dice come vado ad aggregare come posso andare ad aggregare i dati che sono nel mio dataset l'operazione di di summarize sostanzialmente cosa fa prende una serie di dati cioè tutti i dati delle colonne e va a produrre un unico valore per cui la libreria che ho importato si chiama Magriter ve la scrivo qua che definisce le pipe ed è stata chiamata in quel modo per il famoso quadro di Magritte se si ne fa un pip in summarize cosa faccio vado a definire una serie di variabili che sono calcolate come aggregazione quindi l'obiettivo è che queste espressioni producano un unico risultato per cui posso dire ad esempio non so totale uguale critico più lieve perché questa operazione non mi restituisce un unico valore mi somma due colonne e non è quello che voglio fare le espressioni che devo mettere lì o le funzioni che vado a mettere devono restituire un unico valore quindi un vettore di dimensione 1 se volete per cui ad esempio il totale dei casi se volete lo possiamo scrivere come somma di casi se io vado ad eseguire questa riga il risultato è totale casi NA perché perché se io vado a vedere questi dati che sono qui in questa riga vedete che ho nel totale un NA può succedere può succedere a questo punto dobbiamo semplicemente decidere come comportarci se vogliamo fare la somma escludendo gli NA quindi considerandoli come se fossero degli zeri quello che possiamo fare è andare ad aggiungere un parametro che si chiama NA.RM e metterlo che sta per NA remove ovvero rimuovi gli NA prima di fare la somma quindi in questo caso se li eseguo il risultato è questo 756.952 ovviamente questo ovviamente lo posso fare su tutti i casi lo posso fare sull'asintomatico lo posso fare su critico ok lo posso fare su tutte le colonne numeriche poi vedremo che c'è anche un modo più compatto di andare a scriverlo se voglio fare la somma di tante variabili tuttavia l'operazione di summarize è utile nel momento in cui io la faccio non su tutto ma per gruppetti per cui ad esempio posso andare a fare a calcolare i casi non per tutti ma suddivisi per ad esempio age group per gruppo di età come faccio a fare questa operazione di sintesi aggregazione per gruppetti la faccio andando prima di fare la sommarizzazione a raggruppare secondo un qualche criterio quindi se io faccio covid freccia uso la funzione group by a cui passo una colonna abbiamo detto age group questo cosa vuol dire vuol dire che presi tutti i valori unici all'interno di quella colonna per ciascuno di questi valori viene creata un gruppo e applicando successivamente il summarize questo il summarize non viene fatto su tutto il mio dataset ma viene fatto su tutte le righe di ciascun gruppo quindi verranno sommati i casi per ciascun possibile livello di quella variabile age group si usa il termine livello essendo quello un fattore perché i possibili valori di un fattore vengono chiamati anche livelli la funzione levels che abbiamo visto nello scorso laboratorio mi pare fa proprio quello ci dice quali sono i livelli possibili di age group e per ciascuno di questi livelli va a identificare un gruppetto di righe e l'operazione di summarize viene applicata gruppo per gruppo quindi la somma non viene fatta su tutto ma viene fatta sul singolo gruppo per cui se vado ad eseguire questo vedete che ho i miei age group e ho tutti i gruppi e per ogni gruppo ho il totale dei casi la cosa un po' strana è che qui il primo age group è quello con maggiore di 90 che in realtà dovrebbe essere in fondo ok che insomma non è il massimo quello che posso fare è se vogliamo andare a risistemare questi e quando andiamo a definire il fattore per age group andare a indicare i vari livelli in ordine in modo che poi vengano stampati correttamente e non secondo quest'ordine alfabetico allora forse denominandolo 90 e più lo mette in fondo sì sì è possibile possiamo farlo allora dobbiamo farlo però all'inizio perché quel punto è lì ormai è un fattore per cui qui qui dove ho il mutate dei casi ad esempio posso anche andare a mettere un altro mutate l'abbiamo detto age group uguale a if else age group uguale uguale a maggiore di 90 diventa 90 più e poi altrimenti resta age group se vado qui in fondo e vado a rieseguire tutto quello che sta sopra e poi rieseguo questa riga perfetto esatto questo perché quando noi andiamo a creare un fattore a partire da una da una stringa i fattori vengono ordinati alfabeticamente se io voglio andare a prendere vi faccio un altro pezzetto questo risultato lo posso ulteriormente andare ad ordinare e qui vado a usare un'altra funzione che finora abbiamo visto che si chiama range che mi dice in base a quale variabile voglio ordinare le mie righe per cui ad esempio posso fare descending totale casi questa funzione sostanzialmente mi dice che l'ordinamento deve essere fatto in maniera decrescente altrimenti viene fatto in maniera crescente quindi in questo caso vedete che abbiamo qui i valori più alti e poi a scendere ovviamente possiamo inventarci qualunque altra operazione ho creato una voce totale casi ho creato una voce totale casi con questo summarize qua quindi quando faccio un summarize devo andare a dire come aggregare i dati e come si chiamano questi dati quindi questo totale casi è calcolato come la somma dei casi dopo aver tolto i valori ENA allora errore covid pipe summarize tale casi uguale a some casi hai scritto tour invece di true dovrebbe essere quello vogliamo andare a vedere non so la percentuale di casi critici su il totale dei casi faccio la somma di casi e qui faccio la somma di critici si chiama così mi pare critico e se diciamo critico è più severo na.rm sempre true diviso questo attenzione qui sum e poi critico più severo critico più severo dovete considerarlo come due somme tra due vettori che sono le colonne ovvero i pezzi di colonna che corrispondono a ciascun gruppo quindi critico più severo somma due colonne sum invece fa una somma verticale quindi prende tutti i risultati del risultato di somma di critico più severo ovviamente qui ogni gruppo ha due livelli nel senso che sono MF maschi e femmine qui se non ho commesso errori ho il totale di casi in questo caso scusate diciamo chiamiamo la proporzione critici e lo faccio in ordine discendente per proporzione di critici almeno ho un nome diverso ok in questo caso vedete che il tasso più alto che è un 18% è nell'area 80-89 poi abbiamo 90 più poi 70-79 e a scendere gli altri domanda la group buy non modifica il tigol scusate il tigol ma aggiunge una sorta di tag sì la group buy non cambia il tigol per cui se io vado a farvi soltanto questo vi seleziono soltanto quello e lo eseguo quindi non eseguo tutta la la pipeline quindi la sequenza di pipe quello che ottengo è questo ok quindi non cambia nulla rispetto a quello che avevo qua sopra è identico a vederlo c'è un flag che viene aggiunto all'oggetto data frame o tigol in questo caso che dice che c'è un raggruppamento per age group l'operazione di summarize normalmente che cosa fa fa l'aggregazione e poi dopodiché va a togliere questo raggruppamento anche perché non avrebbe più senso perché dopo aver fatto un group buy quando faccio un summarize il risultato è di avere un'unica riga per ogni gruppo quindi non ha più molto senso avere un raggruppamento ok ehm altra osservazione che non ho fatto prima la data che noi avevamo convertito in realtà ci interessa poco o nulla nel senso che è sempre uguale è la data di pubblicazione dei dati quindi non è una data vedete che è sempre uguale in tutte le righe quindi quello che posso fare qua su è esempio qui andare a fare un select e andare a dire a me interessano soltanto alcuni alcune colonne la select può essere fatta in modo diciamo positivo o in negativo ovvero dire cosa voglio ottenere oppure dire che cosa voglio scartare in questo caso è molto più semplice dire cosa voglio scartare perché posso dire meno iss date se riesego quanto c'è prima e poi questo sostanzialmente cancello quella data perché tanto è un'informazione inutile in senso che è uguale dappertutto e mantengo invece i dati che mi interessano di più e se vado a rieseguire è questo ecco vedete mi genera diversi da diverse tabelle come risultato una per ciascuna di queste quindi qui mi dà il totale dei casi qui mi dà il totale dei casi per età e qui mi dà la proporzione di casi critici per le varie fasce d'età se vado a vedere i casi in totale per le varie fasce d'età ovviamente 90 e più sono pochi ma perché effettivamente le persone con quell'età lì sono poche il grosso della popolazione italiana è in queste fasce qua ovviamente dopo aver fatto questo io posso tranquillamente sul risultato andare a fare un altro mutate andare ad esempio a dire percentuale uguale proporzione critici per cento paste zero round per cento uno virgola percentuale chiusa tonda chiusa tonda e pipe cosa ho fatto ho preso la proporzione di casi critici moltiplicata per cento ho arrotondato a una cifra decimale e poi ho fatto un paste di questo attenzione io questa operazione la potrei anche fare in questo modo proporzioni critici per cento pipe non so se funziona perché è anidata dentro un'altra pipe ma round uno e poi quindi arrotondiamo una cifra decimale e poi paste zero con c'è già qua il percento ok Ho sbagliato la priorità tra le variabili, la pipe ha la priorità più elevata del prodotto, quindi prendo prodotti critici per cento, faccio la pipe, la passo round, quindi implicitamente il primo parametro di round diventa questo. Il risultato lo passo a paste, quindi il primo parametro di paste 0 diventa il risultato dell'arrotondamento di questo, ha una cifra decimale, e il risultato lo metto in percentuale e ottengo sostanzialmente questo. Quindi Chiamiamolo percentuale 1 e 2 Il risultato vedete esattamente lo stesso. Calcolato in due modi diversi, uno con funzioni annidate, l'altro con la pipe. Volendo, l'altra cosa che posso fare è utilizzare quello che si chiama il placeholder punto No, così non funziona, perché probabilmente interferisce con l'altro. Però diciamo che così è un altro modo di andare a... Allora, si è perso qualcosa. Forse ci siamo, totale e le percentuali. Quindi due modi diversi, funzioni annidate oppure pipe. Se ho tante funzioni annidate così, posso andare a avere problemi a capire cosa sta succedendo. Se ho i vari passaggi invece fatti così, dove sostanzialmente il risultato di un passaggio è il parametro, Il primo parametro di quello successivo vuol dire che moltiplico per cento, arrotondo a 1 e poi concateno con il carattere per cento. E il risultato è praticamente identico, perché ovviamente faccio le stesse chiamate. Cambia soltanto la sintassi che ho utilizzato per andare a scrivere le mie operazioni. Ok. Ok. Il risultato ovviamente lo posso andare a visualizzare in qualche modo. Ok, quindi volendo posso mettere un'altra pipe e andare a mettere qui un plot punto dollaro age group age group e qui punto dollaro cos'è? proprio critici forse è meglio un bar plot allora scusate conviene utilizzare la formula se me la prende se me la prende non mi funziona in questo modo ma diciamo che se lo metto così salviamo qui e facciamo bar plot dp 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 dollaro age group abbiamo un not number che mi dà un problema allora se io vado a visualizzare questo dato qui come avevo visto la seconda pagina c'era un note number qua dappertutto quindi ultimo pezzo di filtraggio di 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 trasformazione è il filtraggio quindi filter sostanzialmente va a eliminarmi alcuni dati lo posso fare qui ma lo posso fare anche prima quindi filter age group diverso da non noto manca ancora qualcosa vediamo se funziona la formula ok con la formula funziona meglio ok quindi ho le varie fasce d'età e il la la proporzione di valori critici sì perché i nomi dei parametri adesso io me li dimentico sempre perché le funzioni di base le uso poco ma bar plot ha come secondo parametro width mentre invece il parametro da utilizzare è names arg quindi questa cosa qui equivale a dire bar plot facciamolo così virgola names punto arg uguale a questo in questo caso me lo fa però vedete che me lo fa in maniera strana ok invece di mantenermi l'ordinamento e me lo fa sostanzialmente come è ordinato qua mentre invece se faccio questa funzione qua usa questo come un come un fattore e quindi me li ordina in base al fattore così invece me li ordina in base all'ordinamento che trova all'interno del del dataset dipende da cosa da cosa voglio fare ovviamente se ho ordinato per proporzione di critici discendente probabilmente questo è quello che voglio se invece non mi interessa quello posso tranquillamente usare questa variante qua che usa l'ordine dei livelli all'interno del nostro del nostro fattore ovviamente non è il massimo fatto in questo modo per cui dovrei mettere un la etichetta orizzontale fascia di età etichetta verticale proporzione e poi non mi ricordo se questo è sufficiente a cambiare la dimensione del carattere di ok ok no ecx.names che riduce il i valori riduce la dimensione dei caratteri domanda non trova dp? allora io dp l'ho chiamato ho memorizzato in dp il risultato di questa grossa espressione e quindi poi ho utilizzato questo qui è probabile che forse ho sbagliato a scriverlo io prima possa direttamente andare a mettere punto e punto per vedere vediamo se funziona così ok ok allora ultimo operatore di pipe che vi menziono è il dollaro che sostanzialmente prende il dataset che è il risultato di tutto quello che abbiamo fatto prima e rende i nomi che sono presenti nel dataset immediatamente disponibili quindi io posso utilizzare propcritici e age group direttamente senza dover mettere prima il il nome del data frame ovviamente invece di questo posso andare a mettere anche la variante con la formula così e funziona anche questa quindi questo permette di andare a considerare il data frame come se tutte le colonne fossero delle variabili normalmente accessibili senza dover andare a specificare nome del data frame dollaro in alternativa vado a dire che tutto questo lo assegno a dp e poi lo utilizzo in questo caso o questo oppure vado a calcolare dp e poi a stampare il tutto utilizzando il data frame che ho generato temporaneamente vi faccio notare che se uso la formula qui mi compare anche non noto anche se nel data frame l'ho tolto perché quando uso la formula mi prende tutti i livelli di questo di questo fattore se voglio avere la stessa cosa devo andare a riordinare i fattori di questo data frame con un mutate abbiamo detto age group uguale reorder age group e qui vado a mettere sostanzialmente la proporzione di pazienti critici quindi se faccio così sia quello con la formula che l'altro vabbè hanno l'ordinamento inverso perché sia quello con la formula che quello con i valori del data frame mi danno sostanzialmente lo stesso risultato questo perché ho fatto un reorder del mio fattore ho scritto qui avrei potuto scriverlo tranquillamente nella formula qua ok abbiamo visto praticamente tutte le funzioni importanti in questo in questo diciamo tie diverse ci sono alcune funzioni un po' più particolari soprattutto che riguardano la manipolazione delle stringhe qualcosa sui fattori però diciamo che sono dettagli in generale tutto quello che abbiamo visto oggi è quello che ci serve per andare a prendere i dati manipolarli e poi trasformarli per andarli a eventualmente sintetizzare e poi visualizzare facendo un piccolo riepilogo di quello che abbiamo visto lo faccio qua sulla sulla preview del notebook abbiamo visto che possiamo utilizzare le funzioni grid underscore per andare a leggere dei contenuti qui abbiamo reeletto un file excel ma possiamo leggere un file csv e il funzionamento è simile nelle slide nella lezione pre-registrata c'era qualche esempio di utilizzo di read csv una volta che ho letto il mio file quello che ottengo è un tibol il tibol è una versione un pochettino estesa di un data frame dopodiché una volta che ho importato i miei dati devo andarli a risistemare fare un'operazione di tidy quindi qui vedete che abbiamo la stessa osservazione quindi lo stesso gruppo femmine da 0-9 sparso su cinque righe diverse quindi l'idea è di andare a prendere questo e modificarlo l'operazione che faccio è un pivot wider perché perché sostanzialmente quelle due righe stato clinico e casi devo andare a sparpagliarle su tante colonne quindi il mio dataset il mio data frame o tibol si allarga c'è anche pivot longer che sostanzialmente fa l'operazione inversa quindi l'operazione fondamentale che faccio qua è fare un pivot wider in cui tutti i possibili livelli di quella colonna diventano nuove variabili e i valori corrispondenti nella colonna casi vengono messi sotto tra l'altro passiamo da una colonna con 106 righe a una colonna con 22 righe ok quindi i dati sostanzialmente sono quelli è possibile che ci siano delle combinazioni di della prima parte di dati fisso e dei possibili valori delle colonne che non hanno nessun valore nel dataset di partenza quindi in questo caso diventano degli NA qui oltre a sostanzialmente fare questo pivot wider che è l'operazione principale ho anche fatto qualche piccola trasformazione per cui abbiamo visto che abbiamo mutato i casi in modo che minore di 5 diventi 3 e l'abbiamo trasformato in un intero e poi l'altra cosa abbiamo preso l'age group che aveva l'etichetta maggiore di 90 e l'abbiamo trasformato in 90 più in questo modo sostanzialmente nell'ordinamento alfabetico dei livelli di quella variabile quello diventa l'ultimo come effettivamente dovrebbe essere qui c'è il pivot longer che fa sostanzialmente l'operazione inversa e infatti ci ritroviamo lo stesso tipo di dato di prima dopodiché posso utilizzare varie operazioni per andare a aggiustare manipolare un po' i miei dati mutate che abbiamo già visto prima in cui io vado a definire una variabile in funzione di qualcosa qui in questi tre casi ho sostanzialmente ridefinito delle variabili resistenti ma ovviamente posso anche come in questo mutate ultimo andare a definire una nuova variabile in funzione delle altre qui è semplicemente una somma posso scrivere un'espressione qualunque posso fare un'operazione di select che va a selezionare alcune colonne la select funziona sia in positivo che in negativo nel senso che normalmente elenco le colonne da tenere posso anche andare a eliminarne alcune quando inizio eliminandole ovviamente tutte le altre vengono mantenute e poi ho il rename che mi permette di cambiare il nome di una di una colonna variabile ho poi la sintesi dei dati che per qualche strano motivo non mi viene mostrata rieseguo questo tutto salvo ok adesso la sintesi dati me la ritrovo perfetto probabilmente avevo salvato senza rieseguire tutto il chunk abbiamo parlato della funzione magritter e delle pipe ma direi che è un qualcosa di sottofondo una volta che uno prende l'abitudine di utilizzare le pipe tendenzialmente non usa più le funzioni annidate perché le pipe permettono di leggere tutto in maniera molto molto più semplice quindi abbiamo visto la funzione summarize in cui utilizzata da sola ci permette di andare a sommarizzare con delle espressioni che posso fornire io esplicitamente tutti i dati la summarize di solito non viene usata quasi mai in questo modo a meno che voglia avere proprio la sintesi totale ma viene utilizzata unitamente al group by in cui vado a specificare una variabile i cui valori mi identificano i raggruppamenti a questo punto la summarize non opera più su tutto il mio dataset ma opera gruppo per gruppo per cui in questo caso raggruppo per gruppo di età e vado a fare il totale dei casi e quindi ho il gruppo di età e il totale dei casi in più questa funzione di arrange che cosa fa va a ordinare in ogni discendente rispetto al totale dei casi il risultato come al solito è sempre una tabella quindi non l'ho memorizzata in questo caso viene stampata ma volendo posso andare a memorizzare da qualche parte e utilizzarla dopo oppure andare avanti con delle pipe per future elaborazioni qui abbiamo tutta una serie di elaborazioni quindi ho il group by ho un summarize un pochettino più complicato di prima ho un mutate scritto in due modi utilizzando funzioni andate utilizzando una pipe all'interno di questa di questa chiamata ho la range che ordina il mio dataset poi ho un filter per andare a togliere questo age group in cui il valore di questa variabile prop critici non è calcolabile e sostanzialmente credo che ci fosse un nero un diviso zero o qualcosa di questo tipo e poi uso questa variante della pipe col dollaro per andare a rendere disponibili i risultati quindi sostanzialmente è come se le colonne della tabella che risulta qui fossero delle variabili normali e quindi posso utilizzare tranquillamente in questa mia formula quindi proporzione di critici come funzione dell'age group e quindi ottengo sostanzialmente questo qui vengono messi tutti i valori possibili dell'age group quindi compreso anche il non so che ho eliminato perché comunque fa parte dei livelli di quel fattore ok non è presente nei dati ma è uno dei livelli previsti dal fattore qui ho un'altra variante dove invece di andare a utilizzare direttamente la pipe con esposizione degli attributi delle colonne vado a memorizzare in un dataset scusate in un data frame o un tibble e poi utilizzo quello qui nella formula in questo caso ho anche fatto un'operazione di mutate andando a riordinare i livelli del mio age group in base al valore discendente di questa variabile e quindi ottengo sostanzialmente questo in cui ho le varie fasce d'età con la proporzione di critici sui casi totali in ordine discendente per caso critico e qui sostanzialmente la stessa cosa ma fatto non con la formula ma con le due variabili ora questi grafici non sono granché e comunque avete visto che sono un po' strani da usare normalmente quando andiamo a fare delle visualizzazioni in R utilizziamo un'altra libreria che fa parte sempre del Tidyverse che si chiama ggplot2 che è molto più flessibile e ci permette di andare a descrivere i criteri con cui formare il nostro grafico e questo sarà l'argomento della prossima lezione di lunedì entro domani vi metto a disposizione una lezione su ggplot così lunedì vediamo un po' in pratica come si utilizza e avete avuto modo di dare un'occhiata prima a quali sono le caratteristiche fondamentali di questa libreria questo file lo carico sul portale ma in realtà è disponibile su sul github cioè non adesso ma a breve sarà disponibile sul github che è questo su github scusate sapete che forse non è visibile perché non sono logato e quindi non è visibile sì è questo che vi metto qua in in chat ve lo ve lo rendo visibile ok lo carico lì sopra e ci sono anche gli esempi precedenti ok scusate ma ero convinto di avervelo reso visibile ma evidentemente è project overview non so se voi lo vedete con il vostro account fatemelo sapere poi eventualmente forse è visibile soltanto se vi fate il login non lo vedete ok allora ve lo ve lo ve lo ve lo sistemo e vi rimetto il link sul su su slack così ce l'avete a disposizione ok direi che a questo punto possiamo chiudere la lezione di oggi grazie